Festival studentesco, prima serata moderna, il clou del festival è iniziato e noi siamo qui per seguire la serata ma anche per andare dietro le quinte a intervistare i ragazzi nei camerini e quindi sarà proprio quello che faremo adesso. Andiamo un attimo a vedere come i ragazzi si stanno preparando poco prima di salire sul palco. E siamo proprio dietro le quinte, in particolare nel camerino del Carducci dove le ragazze si stanno preparando alla loro danza moderna. Sappiamo che qua in mezzo c'è Valentina che sta per parlare con noi. Ciao Valentina! Ciao a tutti! Allora, com'è l'atmosfera dietro le quinte? Siete pronte? Siete cariche? Siamo carichissime, un po' di ansia c'è sempre però come vedete tutti i colori siamo molto accesi, più carichi che mai e speriamo tantissimo di vincere ma soprattutto di piacere a tutti. Secondo te vincerete? Spero tanto di sì ma quest'anno il Carducci spacca, vedrete. Allora in bocca al lupo e in bocca al lupo a tutte quante ragazze! Grazie, grazie! E dopo il Carducci siamo con l'ITC Battisti appena appena è scese dal palco, cioè fresca di palco così. Nicole, cara, com'è andata? Bene. Come sempre? Sì, speriamo. Vediamo qua le tue ragazze tutte di verdi vestite, qual era il tema del vostro balletto? Ma era una lotta tra Hansel e Gretel e gli scagnozzi della strega. E chi ha vinto? Hansel e Gretel. Ovviamente che domande faccio anch'io. Ragazze vi aspetta qualcos'altro questa sera? Sì, gruppi musicali e per noi il dance contest anche. E allora, Nicola, in bocca al lupo e in bocca al lupo a tutte noi ragazze. Grazie. Grazie. Ragazze, contesti danza siete passate? Sì, per fortuna, per fortuna. Perché non ci credevate? Era un po' difficile, loro anche sono passate e si è andata una. Era un pezzo, no? Interessante scelta. Sì, e insieme con un significato molto profondo e lo vogliamo dedicare a tutti quanti voi. A noi, ma che carini! È stata una vera e propria improvvisazione. Un'improvvisazione. Allora entriamo dentro al camerino del Rainerum, vediamo invece come gli altri ragazzi si stanno preparando. Signori del Rainerum, cosa state facendo? Sì, stiamo. Ciao caro, come sta andando? Bene, dai, tu? Tutto a posto, tu canti domani, vero? Sì. Oh, fantastico. E qualcosa, diamine, stavate combinando? Ne stavamo pregando. Stavate pregando per cosa? Don Bosco che vada tutto bene, che quest'anno possiamo arrivare sul podio, insomma. Dai, ci credete che arrivate sul podio? Dai, dai, dai. Sì, ci crediamo tantissimo. Loro. Tu no? Sì, anche lui, soltanto, sono un po' a me. Sì, 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 dai. Allora, io sto facendo le corna con la mano fuori dall'inquadratura, va bene? Anche tu? No. Non si gufa qui dentro. Dai ragazzi, allora in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.